le mani con le mani con le mani ciao ciao eccoci buongiorno avevamo detto si avevamo avvisato non siamo cicciate così a sorpresa allora eravate state avvisate quindi se non avete ancora staccato il modem ormai allora sono le 12 e 18 ok e qualcuno già arriva non so io perché a me ancora no no secondo me pucci da l'icona e c'è anche qualcuno vedi buongiorno pucci allora sono arrivate come vedete anche dal titolo della diretta è tutto qui sotto le idee pungenti a rio stefania ciao michela è arrivato e dai per creare allora adesso pure finiti sì per chi ha ordinato tranquilli noi ora tiriamo fuori tutto ma già sappiamo a chi sono destinati sono andati e è rimasto poco 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 e fate come no a valori in famosa per farlo sì che l'altra ecco molto bene fate come già ha fatto qualcuno che se ne è prenotati dal sito e ha fatto l'ordine sul sito e noi adesso prepariamo tutto quanto allora andrei anche perché noi dobbiamo ancora caricare le offerte di le 14 30 andiamo andiamo allora ciao blanca ciao blanca è ritornato il pannolenci bianco di idee per creare che è lo stesso su cui stampa adelaide quindi la qualità è la stessa identica l'altra volta l'avevamo preso di prova ve lo siete mangiato abbiamo ripreso un po ok poi via subito novità le nuove spiraline i fiori che ci piacciono tanto di adelaide sono usciti in versione piccina se 12 centimetri mi sembra però in questo caso la vendita è sempre singola e 80 centesimi l'uno se non sbaglio vengono e ma i colori in questo caso sono casuali casuali l'assortimento è stato fatto da idee per creare per cui ecco qui ci sono tutti i petali rosa e questo sono questi sei modelli che sono gli stessi delle grandi ma in versione piccina piccola sì ok e queste sono le nuove spiraline le abbiamo provate ci sono solo queste quindi in caso sbrigati ecco e queste poi iniziamo qualche pannello vai tiro fuori così perché fattura un volontario che voglia la fattura noi allora perdonateci verrà c'è così come vengono è perché non abbiamo avuto tempo verrà così come vengono così come vengono non abbiamo avuto tempo per mettere no anche perché mentre arrivava il pacco contemporaneamente c'era rappresentante di idee per creare che ha voluto in diretta in diretta sì che ha lo stesso di stafil di cui abbiamo fatto un piccolo ordine quindi preparatevi anche a quello allora questo è il pannello felt 0 15 quindi è il feltro 2 mm stampato e sono i pannellini quelli piccini se non sbaglio 20 per 20 ora non ricordo quindi ve li ritagliamo al momento esatto esatto la vendita è questa praticamente non credete sì e sempre lo sapete questo arrivo è prevalentemente tema api no sì ok e a proposito di api noi rimarremo in tema sulle offerte più tardi troverete un lotto proprio con la ricorda che ricorda che ricorda che ricorda questo app è la versione piccola e poi c'è la versione quella del felt che siete abituati già a vedere che se non ricordo male al 50 per 50 e saranno pure gnomi ma sono grandi questi gnomi api sono bellissimi bellissimi sì il 50 per 50 sì ok poi proprio alle allegri poi api insomma sappiamo tutti l'importanza poi allora pannello p 190 bambolorsa con questo pannello si fanno due bambole aspetta le vediamo qui il maschio e la femmina sì se non sbaglio vengono sui 30 cm la bambola centimetri ok quindi gra grandi pure sono dei ragazzini allora quindi viene l'ape e l'apo e l'apo orsato un ibrido oddio un personaggio strano un personaggio mitologico strano però carino c'è la faccia simpatica questo ancora è rimasto poi sul sito trovate le quantità disponibile perché sono state scalate dagli ordini poi 1 2 3 4 però per forza non lo so se ho preso l'osato p 100 ah no 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 p 198 questo è l'ultimo proprio che è uscito dopo che già abbiamo fatto l'ordine esatto inserito al volo e tanto già l'avete ordinato i portachiavi i portachiavi apette questi sono fantastici e si fanno una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 11 12 13 14 16 apette quelle cose azzurre sono le ali e da applicare dietro poi c'è il fiorellino fronte retro e questo è il p 198 l'ultimo nato proprio più ultimo di questo 24 ore dopo la diretta di presentazione infatti abbiamo già fatto l'ordine ma ma adesso allora un due tre quattro cinque questi sono tutti infatti una cosa è rimasta fuori è l'unico articolo delle novità rimasto fuori lo anticipiamo subito abbiamo tutta la linea tranne i portachiavi ignomi eh no pure un'altra cosa non abbiamo preso le galline quelle viole ah no perché sì vabbè diciamo che sono solo più piccole rispetto a quelle che già conoscete quindi non ciao corrato ben arrivato ciao corrato e quindi non sarebbe stata una novità assoluta come novità assoluta ma mancano solo i portachiavi ignomi perché l'ordine era già partito è uscita come novità quindi la non abbiamo fatto in tempo poi p 182 zaino borsa portachiavi tutto il completo non è vero guardate che carini muovilo poco guardate ma guardate i colori no vabbè sono fantastico sì dalla regia per cortesia no telefonare durante la diretta a perché cara sono in diretta ti sto rispondendo in diretta sì ci sentiamo tra un po' è arrivato no è un'altra diretta questa ciao chi è rosa ah ok eccola qua questo è carinissimo delizioso sì veramente carino c'era da qualche che adelaide l'ha presentato fatto sì noi abbiamo linkato il video di presentazione di questi pannelli così potete se volete vedere anche perché adelaide li ha fatti vedere già tutti i finiti i campioni e poi man mano che stanno uscendo i tutorial sullo shop già li ho linkati quelli che già sono usciti www.hobbyde ricordi.it ah giustamente stavolta posso mostra eccolo qua ve l'ho messo anche in alto tra lo shop e abbiamo visto il p 182 zaino borsa rosa ma questa diretta sorpresa no no rosa era annunciata era annunciata non è non l'abbiamo scritto ma lo avevamo detto allora poi un altro pannello che è andato tantissimo prima ancora prima di uscire infatti qualcuno forse c'è ancora è il ma no la puna la puna il metro p 197 è il metro per i bimbi con il pupazzone dell'ape guardate che quest'ape è enorme è una cosa immensa cioè guardatela vicino a me è sì infatti è grande grande è grandissima bella 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 p 197 il metro poi ok poi 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 interrompiamo un secondo le api e facciamo vedere a si dei riassortimenti no no questi sono nuovi ma ci stanno le stesse immagini che vi sono piaciute tanto del vintage p 195 vintage 2 sono tornate enormi pure questi aspetta perché c'è il rotolo davanti delle api ok il vintage 2 c'è la volpa la volpa e la conigliola e la coniglia si sono grandi eh si e poi c'è il vintage 1 ora lo vediamo scusate sto correndo un po' perché veramente non so come faremo a fare in tempo allora questo è il vintage 1 dove se stesse dimensioni c'è l'oca e la scogliattola ciao massimo tuo sì 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 non sta all'ora ma figurate ma quando mai ecco qua questo è il vintage 1 poi chi non li ha ancora ordinati se sbrighi ok tra poco scompaglio poi i libri tattili libro tattile naturalmente tema ape ape e contadini guardate che cos'è mamma mia che bello questi sono bellissimi i contadini ma i contadini c'hanno sempre fatto c'è pure la peregina pure con la corona eccolo la troppo carini quindi questo è il pannello p 180 si chiama proprio la peregina la peregina ed è un libro tattile di quelle che già voi conoscete però tema ape esatto e di questo ci sono anche le sagome si le sagome in feltro eccolo qua per appunto le sagomine naturalmente è solo la silhouette e voi andate ad applicare sopra il ritaglio il ritaglio dal pannello ora ce l'avete più rigide e sostenute e potete fare la tacca stacca si poi naturalmente essendo un libro tattile segue una serie di accessori volendo tipo il sonalino gli strep gli strep quello è da tutto disponibile si 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 ah scusate perché c'era anche il vintage 3 ah il vintage 3 e mi sembrava infatti che mancavano ecco eccolo qua il volpo il volpo e il progione vintage 3 vintage 3 P196 dai dai che abbiamo su quasi fatto quasi fatto allora vintage 3 vai mettiamo qua sotto voglio vedere dove fanno offerte dopo allora poi e le rimettiamo nello scadolone si volendo P199 questa pure troppo bella la giraffa col bavaglino la giraffina col bavaglino eccola quanto è carina troppo carina ecco questo è uscito dalla diretta aspettate fai vedere fai vedere vabbè eh sì quello ti butto fuori da un po' non ho mai capito perché ma per lui è normale questo è normale per lui no no ma l'importante è che ci sei sì in effetti allora questo è il codice P191 ok ok poi eppure questa è grandicella eh grande se non c'è la dimensione non mi sembra di leggerla però insomma secondo me sempre sui 30 cm viene ok e poi allora accessorio per il metro si il metro misura bimbi c'è la stampellina c'è la stampellina la stampellina questo è legno per cui se vi piace lo potete dipingere con gli acrilici esatto se non lo volete lasciare grezzo eh esattamente e ultimo pannello api questo pure è stato un successone infatti molti sono già ordinati l'alveare 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 bellissimo e con questo è un alveare vero sì perché dalla grandezza è un alveare pure i barattoli di miele ci stanno guarda carini e con questo ciao Fabrizio ciao Fabrizio un altro che sta lavorando eh tutti e con questo volendo ci potete fare la giostrina sì e abbiamo preso l'accessorio giostrina proprio per questo pannello aspettate ve lo faccio vedere ciao belle ciao belle questo qua è il cerchio sì con tutti i ritagli delle stelline le apette eccetera per fare la giostrina la giostrina questo poi ovviamente si mette qua con tutti i pennelli è certo e chiudiamo con un ritorno sì di quelli che no c'è anche qualcos'altro tra gli accessori eh ma nelle prima li stavate vedendo con Marco ma qua dentro non ci stanno più non so dove meraviglia delle meraviglie che oddio no vabbè e ora lì ciao Anna buongiorno buongiorno Anna sono al lavoro ma vi guardo ma vi guardo ma che vi passino zitti 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 tantissimo infatti erano finite da tempo e ora sono tornate disponibili ora mi piacerebbe sapere dove sta l'accessorio ve lo racconto sì allora lo troveremo c'era perché l'abbiamo guardato col rappresentante che secondo me se l'hai portato via Marco che tu lo sei portato via perché lo stava vedendo c'aveva in mano è che Marco adesso neanche si collega perché c'è una riunione e neanche si collegherebbe non possiamo fare questo appello in diretta ma dov'è non lo so anche perché poi erano un po' sì vabbè comunque è arrivato il girafiori il girafiori l'accessorio girafiori l'uncino per vi faccio vedere la foto perché per il momento solo quella vi posso far vedere oddio mio sarebbe il colmo se per sbaglio si è preso allora vi faccio vedere qui è questa specie di punteruolo se voi vedete io faccio del mio merito se voi vedete qua vedete che c'è una scanalatura in quella scanalatura voi inserite l'estremità della spiralina e cominciate a girare invece di farlo a mano che intanto che sfuggirebbe da una parte dall'altra quello è comodissimo perché inserito all'estremità della spiralina nella scanalatura girate puntino di colla girate puntino di colla fino a che non ottenete tutto il fiore arrotolato ok quell'attrezzo lì sempre sulla fiducia noi dovrebbero essere arrivati dieci poi di tutti e dieci sei portati via ma non è possibile è utile anche agli scrapper perché esistono le fustelle della big shot che fanno proprio i fiori a spirale per cui voi potete anche inserire eventualmente il ritaglio in carta nel girafiori quando lo troviamo e con lo stesso metodo girate il ritaglio in carta quindi quello è utile sia per gli scrapper sia per i nonno sempre quando lo troviamo sempre virtuale si ecco oddio allora signora va bene allora diciamo che va va bene diciamo che ora noi no debbora mette sulle offerte io mi tolgo gli ordini di queste cose sì quindi chi ha le cose da parte tranquilli ora le prepariamo tranquilli può venire voi a ritirarle e noi ci rivediamo alle 14 e 30 oggi è martedì quindi le offertone non perdetevele perché ci stanno come al solito tante cose interessanti almeno secondo noi secondo noi sì ok e oltre a mettere le offerte ci mettiamo alla ricerca del girafiori perché non si può si può sentire che è sparito non abbiamo visto può succedere se si sono scordati di metterlo ma c'era abbiamo anche visto che era carinissima perché c'era sopra idee per creare si è personalizzato costa 2 euro se volete lo comprate così senza averlo a scatola chiusa beh adesso vanno si ma adesso vanno i mondi paralleli quelli dove si compra e basta però non ricevi niente quindi se vogliamo adeguarci alle nuove realtà virtuali possiamo fare pure noi no no meravigliosa questa cosa non c'è però va bene va bene ma non fa niente signore sono le 12 e 41 noi adesso mettiamo mettiamo un attimo a posto mettiamo le offerte su whatsapp e ci vediamo tra un paio d'ore sì alle 14 e 30 a Marco che te posso vabbè te interrompo la te interrompo la riunione però adesso vediamo molto bene ok grazie mille ci vediamo più tardi ciao pochi 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 ciao grazie ciao